da solo oggi ma sono con il buon Luca Descriptaven a cui do un caloroso benvenuto prima volta ospite sul canale ciao Lu benvenuto caro benvenuto benvenuto ciao a tutti ragazzi e grazie ad Alfonso che mi ha invitato che abbellisce di parecchio tra l'altro la qualità della live guarda che bel manzo che si è presentato proprio una cosa una cosa pazzesca allora ragazzi non vi ruberemo molto tempo anche perché sapete no poi che le live comunque domenicali o comunque del sabato sono un po a sorpresa quindi può succedere diciamo così di tutto però vi volevo fare un piccolo preambolo di quello che andremo a dire in questa in questa breve live che è legato chiaramente lo vedete sopra i sports rivals quindi sapete bene che stiamo per cambiare nome sapete bene che stiamo per passare a diventare ludo che quindi stanno per partire i tornei la prima settimana di marzo ci starà subito qualcosa e vi spiegheremo anche a livello di tornei come faremo però prima di far partire questi tornei era nostra intenzione fare un certo tipo di comunicato per quanto riguarda i content è sorta la coincidenza diciamo così visto che comunque un po tutti i content no di sports rival sul loro canale hanno portato un certo tipo di contenuto anche perché sul gioco non c'è niente quindi facendo una chiacchierata così con luca ieri che ieri purtroppo in live ci sono state delle delle problematiche che qua veramente massima solidarietà purtroppo sono cose che nel mondo del web possono possono succedere da cui io mi dissocio fortemente e che condanno ovviamente fortemente però tra le altre cose sono successe ovviamente anche anche altre fatti specie e quindi parlato con luca ci siamo sentiti in dovere di anticipare un po un annuncio che ci sarebbe stato comunque generalmente noi a livello generico quindi sui sports rivals già nei prossimi giorni e lo anticipiamo con lui perché proprio lui è uno dei nuovi acquisti no diciamo del del pacchetto della squadra di sports rivals tra poco iludo e mi fa piacere che abbia voluto diciamo così già prendere l'iniziativa già farlo visto che in queste settimane nella giornata di ieri ha visto determinate cose di sua spontanea iniziativa me l'ha proposto no di voler dire questa cosa e quale miglior diciamo così palcoscerico che il nostro pubblico per poterlo fare e quindi caro lu dopo questo piccolo preambo lascio pure a te la parola su quello che è la tua decisione e su quello poi che sarà l'annuncio che faremo in quanto i sports rivals o meglio dire iludo tra pochissimo dove li prenderò io la parola a te caro fai come se fosse il tuo canale grazie grazie alfonso di tutto innanzitutto ti volevo ringraziare sempre per quello che fai nei nostri confronti nei confronti del del team allora ragazzi allora ragazzi allora ragazzi io volevo dire solo una cosa ieri live come molti hanno visto ho fatto l'evento open cosa che io faccio sempre ragazzi quando viene messo ma non lo faccio perché mi piace l'evento open perché io sono contro tutto il sistema diciamo konami perché purtroppo sappiamo tutti che c'è del marciume dietro quindi posso dire solamente che io potrei rientrare nei nei primi quattro perché per il risultato che ho ottenuto potrei passare diciamo la cosiddetta fase ma ragazzi ma abbiamo preso la palla al balzo a me non interessa proprio ragazzi perché noi stiamo costruendo soprattutto con alfonso un progetto ragazzi bellissimo dove si faranno dei tornei dove ci sarà ragazzi la meritocrazia ragazzi la cosa principale cosa che in questi eventi non c'è purtroppo in questi eventi la meritocrazia non esiste ragazzi quindi quello che voglio dire io che anche se dovessi passare ragazzi io non parteciperò né o né a questo al prossimo round che dovrebbe essere il round 3 né agli altri open che faranno ragazzi è una decisione nostra mia perché dobbiamo combattere questo sistema ragazzi dobbiamo combattere questo sistema konami perché non c'è nessuna meritocrazia io ci tenevo a dire queste parole perché purtroppo ieri live sono successe alcune cose ragazzi io io quando faccio queste competizioni le faccio solamente per allenamento per allenarmi per giocare magari con gente più brava o meno brava di me solo questo ragazzi io volevo dire quindi io sposo il progetto di esports rivals che è un progetto serio un progetto sano un progetto dove c'è la meritocrazia dove verranno fatti dove verranno fatti dei tornei veramente seri e non come quelli che fa konami ragazzi perché konami per me quei tornei che fa sono tutto una buffonata purtroppo è così mi dispiace dirlo perché anni che gioco prima ps poi futbol ma ragazzi è una buffonata perché non si può assolutamente accettare questo sistema ragazzi non c'è una meritocrazia quindi io ci tenevo a dire questa cosa perché sono contro tutto questo ragazzi sono tutto sono contro tutto questo quindi anche se io dovessi passare raga io non parteciperò più quindi apriamo gli occhi tutti quanti abbiamo gli occhi tutti quanti perché se si continua così ragazzi è una cosa senza senso perché io detto questo diciamo passo la parola ad alfonso ti ringrazio lui prego prego se vuoi finire vorrei dire qualcos'altro cari io io voglio dire solamente ragazzi che a prescindere dai sports dai vals dai ludo eccetera eccetera ragazzi ma aprite gli occhi anche voi c'è meno persone fanno questi eventi meno meno konami c'è diciamo più konami scusate più konami capirà i propri sbagli ragazzi perché konami non capisce quello che fa secondo me raga cioè è palese non gli interessa non gli interessa perché loro lo sanno che ci sono le persone che si passano il gol si passano le partite per arrivare fra i primi quattro ragazzi è una cosa senza senso non c'è non esiste meritocrazia così quindi poi o vengono bannati o non vengono bannati cioè ripeto anche se io dovessi passare al di là del ban ragazzi se non ci sarà ban io non partecipano ragazzi perché tutti tutti io alfonso voi dobbiamo combattere questo sistema marcio ragazzi detto questo passo e chiudo e do la parola alfonso ragazzi ovviamente ti ringrazio lu per le parole ti ringrazio anche per aver insomma espresso alla grandissima diciamo così il concetto vi chiedo un attimo scusa perché c'è una guerriglia di cari fuori quindi chiudo un attimo la finestra e arrivo subito e vi spiego quella ecco rami che ci ha mandato praticamente in carina guardia c'era squizzagliati dietro e sta arrivando l'esercito è per quello comunque assolutamente ringrazio anche interdetto per i bit ringrazio anche gianlu xx the king un altro re si presenta diciamo così sul canale e benvenuti benvenuti ragazzi ovviamente per chi fosse arrivato adesso stiamo facendo un comunicato importante in cui anche luca diciamo come tutti gli altri content poi che faranno parte e fanno parte del progetto di sports rivals e il ludo da oggi quindi da domenica 18 febbraio ufficialmente ufficialmente non io ho già avevo già annunciato personalmente per mia decisione il ritiro da questo tipo di competizioni comunque a dicembre ma da oggi anche noi di tutto l'apparato di sports rivals e di ludo come avete potuto sentire da lucca non parteciperanno più agli eventi competitivi ufficiali conami quindi partner club più più ovviamente i football open questo perché come luca ha ben spiegato anche con toni forti ma giusti attualmente il circuito competitivo conami per il sistema che conami propone è da anni anni non da oggi chiaramente condannato e avvelenato diciamo così dal fatto che il sistema che propone permette appunto cambi di partite compravendite di partite possibilità di agganciarsi no lo specifico avversario e quindi di cambiare il risultato e anche il giocatore più forte è costretto a sottostare a questo tipo di ovviamente se conami dovesse cambiare no modo di fare azioni di fare eventi e quindi mettesse un sistema diciamo così pulito noi saremo i primi a supportare a spingere a partecipare a questi eventi anche perché no come team perché però voglio spiegare ovviamente non abbiamo subito come agenzia imposto i ragazzi di nome a è specifico una cosa noi siamo ovviamente aperti anche al mondo fc e al mondo motori no perché come agenzia ci stiamo sviluppando ovviamente più sui calcistici e piano piano anche sui motori se determinate cose dovessero succedere anche su altri titoli ma non succedono perché succedono solo purtroppo sui football questo lo sappiamo è più o meno in questi anni ovviamente non parteciperemo neanche ai venti che dovessero avere problematiche simili su altri giochi e li sponsorizzeremo non è che parleremo male come agenzia qui abbiamo usato un po toni più forti perché siamo sul mio canale e quindi però economi dovesse cambiare diciamo così l'apparato e ricreare un sistema equilibrato con possibilità prossime allo zero di imbroglio passaggi di partita annullati criteri più intelligenti sul passaggio di questa fase no del torneo stesso anche banalmente idea ma proprio scema che ha avuto tra l'altro ieri parti no con con il big job ha avuto un'idea molto semplicistica no chiunque fa 20 0 passa e poi si fa il bracket a partita secca uno contro già questo è meglio no della differenza reti quindi veramente ci vorrebbe ci vorrebbe poco anche se proprio ringrazio anche buddy per il foglio poi tra l'altro anche se poi le idee e poi diciamo che un'azienda no che ha veramente dell'alto potenziale dovrebbe creare un sistema anti cheat dovrebbe creare un sistema sostanzialmente molto molto più equilibrato però ribadisco non non andiamo troppo oltre fino a quando questo sarà il sistema ripeto da oggi e ci sarà domani poi un comunicato ufficiale su tutti i social di sports drivers che tra poco diventeranno iludo nessuno di noi parteciperà voglio specificare non solo in live sui nostri carari ma neanche in privato e ovviamente tanto meno sui contenuti sports rivals ai tornei quindi competitivi o meglio dire le competizioni agli eventi competitivi organizzati da konami perché abbiamo già più o meno lanciato un hashtag che si chiama stop i football open stop premium event e lo lanceremo ancora di più però non con l'idea e la voglia di fare la guerra a konami ma semplicemente una non partecipazione silenziosa andando a proporre comunque un modello alternativo che non è che sparirà nel momento in cui magari un giorno konami decidesse di rimettersi un po a posto no con i tornei ma anzi andrà parallelo come possibilità contenutistica in più perché la nostra idea anche con altre realtà che magari fanno questo da più tempo che si affaceranno poi in futuro è di totale collaborazione noi non vogliamo né predominare su nessuno né fare la guerra a nessuno ma anzi abbiamo uno spirito proprio collaborativo quasi tra virgolette no di espansione anche imparare no da chi lo fa da più tempo di proposta sostanzialmente di tornei che saranno lo sapete non ne abbiamo già parlato saranno orientati sia per tipologia di torneo ma anche per ranking perché quello che proporremo è un ranking in sostanza dove non ci sarà una classifica proprio primo secondo terzo quarto quinto è ma in base ai vostri risultati voi otterrete un merito in base a questo merito andremo a creare tornei che permetteranno ai giocatori di giocare tra giocatori dello stesso merito quindi questa sarà una parte e tornei chiusi l'altra parte sarà quella dei tornei appena faremo tanti tantissimi tornei e soprattutto li stream mmo ci faremo contenuti creeremo interviste piano piano contiamo nel corso dei mesi non negli a non degli anni di fare eventi dal vivo però di riempire anche gli stadi di avvicinare i giovani no di riempire i negozi magari faremo partiamo bassi però la nostra il nostro sogno il nostro obiettivo è insomma fare qualcosa di grande in europa e quindi espanderci anche a livello chiaramente internazionale quindi andare proprio a livello europeo e magari anche perché no questo è il nostro sogno la nostra ambizione però non per questo creare qualcosa di circostanziale ma di farlo appunto secondo i criteri di lealtà correttezza e rispetto reciproco perché se qualcuno non dovesse rispettare questi criteri immediatamente verrebbe eliminato e fatto fuori dal circuito ed è lì che ad bin vigileranno quindi è un po questo diciamo che il comunicato un po andava a riassumere queste robe qua ok quindi non so se avete delle domande ragazzi in chat sto leggendo chiaramente molte problematiche sulla pubblicità non vi preoccupate perché questo video sarà integralmente ricaricato sul mio canale sarà caricato anche anche perché si sono stati usati toni forti ma non così esagerati toni decisi no più che forti anche sul canale di esports rivals quindi chi si fosse perso qualcosa non vi preoccupate che lo ritroverete lì va bene state in campana perché stiamo veramente per partire però lu io so che tu hai un po di fretta giustamente anche domenica quindi siamo tutti un po a riposo un po un po in girella io ti voglio ringraziare per aver accettato l'invito poi sul sul mio canale se c'è qualche ultima specifica che vuoi dire prego innanzitutto volevo dire grazie a te alfonso per per quello che fai e come lo fai io ragazzi quello che dovevo dire l'ho già detto quindi chiedo a tutti di aprire gli occhi io il primo ragazzi e cerchiamo non di fare la guerra con ami ma noi stessi a capire dove dove sbagliamo nel senso che comunque cercare di non fare questi cosiddetti ragazzi eventi che poi sappiamo cosa c'è dietro eccetera eccetera quindi non mi dilungo più di tanto ragazzi perché alfonso quando spiega una cosa la spiega anche meglio di me ragazzi quindi mi ha spiegato bene quello che si andrà a fare tutto il sistema torneistico che che si creerà quindi io saluto alfonso saluto tutti voi grazie sempre a chi ci supporta a chi ci segue detto questo ciao a tutti ragazzi lo teniamo ancora un po giusto un paio di minuti e lo ringraziamo l'unica l'unica cosa grande gangas grazie di quello per il full e no cambieremo un po la cosa rispondo velocemente xx taking che ha fatto una bella domanda è una goccia nel mare ma chiaramente non è che possiamo neanche fare la marcia su tucchio e andare a invadere la sede economica mi sembra è una protesta la nostra silenziosa con una proposta di modello alternativo faccio una piccola specifica diciamo che non potevo imporre ai ragazzi di non giocare subito perché a livello contenutistico non avevamo qualcosa di concreto da proporre e come a marzo invece ce l'avremo perché stiamo partendo la prima settimana di marzo partiamo con i nostri contenuti anche torneistici i ragazzi avranno qualcosa a fare non tutti sono come il sottoscritto che magari si mettono a parlare tre ore del nulla riesco a intrattenere luca per esempio è un giocatore che ha iniziato il suo percorso contenutistico come giocatore competitivo quindi ha bisogno di streamare partite di un certo livello ne aveva bisogno non potevo prenderlo e dirgli no tu non giochi l'open è come magari se per esempio questo iniziasse a streamare un attore parecchio competitivo immaginate che inizia a streamare Ettore no Ettore sto facendo un esempio è entra nel nostro team e vuole streamare partite competitive cosa lo lasciamo a fare solo divisioni non aveva senso ovviamente non sto paragonando noi Ettore sto paragonando il tipo di content che andiamo a prendere c'è per esempio io max bob no un po per chi segue i lud o chi segue i sports rivals possiamo fare anche un altro tipo di contenuto intrattenente tutto quanto ma il contenuto dove c'è anche luca è bravissimo in questo però ci sono appunto con content all'interno del team che fanno solo competitivo ma il competitivo che propone con ami non è un competitivo sano non è un competitivo giusto non è un competitivo che noi come agenzia e quindi tutti i membri dell'agenzia possiamo o vogliamo supportare però siccome eravamo ancora e saremo ancora in fase di costruzione piano piano ma stiamo per partire adesso il contenuto alternativo da proporre anche ai ragazzi che appunto si incentrano di più sul traiardare diciamo così ce l'abbiamo questo è il momento giusto per uscire con questo tipo di comunicato piano 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 vedrete che avremo qualcosa di bello e magari chissà anche corami vedendo che ci può essere forte interazione con un modello diverso che ci possono essere grandi numeri di iscritti con un modello diverso comincerà a proporre qualcosa di diverso signori e signori noi vi ringraziamo prendo al balzo no i saluti che ha fatto anche luca verso la fine ripetisco il concetto chiunque volesse vedere un po il vod della live è abbastanza breve saranno 20 minuti di registrazione quindi riassunto un po il tutto noi vi salutiamo vi auguriamo buona domenica seguiteci sui social di sports rivals perché domani ci sarà appunto il comunicato per iscritto e poi ci saranno piano piano in questa settimana tante tante tantissime succulente novità ciao ragazzi e buona domenica ciao lu e grazie ancora ciao a tutti ciao a tutti buona domenica ragazzi mi raccomando non ve ne andate perché facciamo un raidetto da qualcuno e quindi rimanete ancora qui e rimanete nella schermata di attesa grazie a tutti grazie a tutti